Grazie a tutti. 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 La peggiore ha perso il 4,8%. Vediamo l'analisi di Federico Rampini che spiega come questo contagio arrivi da lontano, dunque l'onda rossa che parte da Pechino. Cina, petrolio e debiti, tre motori della crisi che si stanno avvitando a vicenda. E poi le riforme via libera in Senato, ma i verdiniani sono decisivi. Poi un riferimento a Papa Francesco, il mandato di Francesco. Le decisioni che il Parlamento si presta a prendere in materia di unioni civili coinvolgono per ragioni storiche la Chiesa italiana, la Santa Sede e in un certo senso persino il Papa. E poi la foto dal Medio Oriente che ha scatenato la solidarietà sul web, il bambino che sogna Messi e che il campione vuole salvare. Poi vediamo naturalmente il riferimento alla morte di Ettore Scola, io Scola e lo scontro tra l'amore e il potere, l'editoriale di Eugenio Scalfari. I film, i libri e la vita, il mio sodalizio con il grande regista e la testimonianza appunto di una parte di carriera professionale trascorsa insieme. Ricordo che ho di Ettore Scola, di Chiara e di quelli che restano nella memoria e non fuggitivi, si toccano nel profondo e fanno parte della tua vita. Da quando l'altra sera ebbi da Walter Veltroni notizia della sua morte, quel ricordo mi è costantemente presente. Questa mattina naturalmente ci saranno i funerali di Ettore Scola nella Camera Ardente che è stata allestita alla Casa del Cinema di Roma. Andiamo avanti, passiamo al fatto quotidiano che apre naturalmente con la paura di un'altra crisi economica causata dal crollo delle banche. Il crollo delle borse ha portato problemi soprattutto al Monte dei Paschi di Siena. Leggiamo, il Monte dei Paschi di Siena travolge borse e governo. Milano, meno 4,8% piazza affari affonda nel 2016, un miliardo fugge dai conti di Siena. Il petrolio basso e i timori sulla crescita scuotono i mercati, ma l'Italia è messa. Peggio di tutti, le azioni delle banche crollano, il Monte dei Paschi di Siena ha perso il 22% mentre i clienti ritirano i risparmi. Il Tesoro convoca i banchieri, ma non ha un piano per fronteggiare la crisi. Andiamo avanti. L'editoriale di Marco Travaglio si contraddistingue rispetto alle aperture degli altri giornali e torna a parlare di tangentopoli, quindi torna indietro nel tempo per parlare dei fatti che invece stanno accadendo oggi nel nostro Paese. Ogni tanto si riparla di tangentopoli, si finge di farlo per fini scientifico storico-archeologici, ma lo scopo è ben più prosaico e attuale. Riabilitare i ladri di ieri per legittimare quelli di oggi. Intimidire i pochi magistrati e giornalisti rimasti con la voglia di aprire gli armadi del potere. E ancora si parla del consulente molto vicino a Renzi, scelto per la cyber security. Dunque, Carrai, un consulente tecnico da 150 milioni, nell'esecutivo conferma, in carico al sodale di Matteo Renzi per i ricchi fondi della cyber security, gli 007 non gradiscono l'ingerenza. E infatti dal Copasir arriva la richiesta di chiarimenti appunto a Palazzo Chigi. Poi all'interno, l'approfondimento che leggeremo dopo, ma il titolo già fa capire molte cose, papà Boschi è anche evasore. Il riferimento è naturalmente al padre del ministro Boschi. E ancora, domani sta scoppiando un nuovo caso che riguarda invece la televisione, appunto Paolo Bonolis, casting mediaset, cercasi razzista per Ciao Darwin. E' già scoppiato il caso su questa cosa per la nuova edizione del programma. E poi domani sul fatto dove mangia lo chef, servizio pubblico, cura, buono. Parliamo di cibo aspettando la RAI, il fondo di Michele Santoro. Curiosamente da quando siamo usciti di scena non si parla più di crisi dei talk, segno che i talk sono tutti uguali, ma ce n'era uno che evidentemente era più uguale degli altri. Si continua a parlare della necessità di innovare. Sono mesi che ci affanniamo a proporre idee nuove, progetti che non interessano a nessuno. Siamo il paese dove si sceglie porta a porta per spiegare l'importanza del merito e della competitività. E poi tutte le critiche agli show di Capodanno, con tutto ciò che ne è derivato, per concludere, un team di molto competenti per arrivare a nominarne un altro di ancora più competenti, questa volta da solo. Quindi ancora critiche da parte di Michele Santoro alla gestione della programmazione RAI e di ciò che viene propinato come servizio pubblico. Nella fotonotizia vediamo il ministro Padoan e il governatore della Banca d'Italia visco populista. L'insulto si ritorce contro Renzi solo in Europa. Passiamo adesso invece alle prime pagine dei giornali regionali che come vi avevo anticipato parlano ancora della trappola nella neve sulla A3 che ha costretto centinaia di automobilisti a rimanere bloccati per ore, circa dieci ore, nelle loro auto, alcune di queste intrappolate all'interno delle gallerie aspettando che arrivasse il personale dell'ANAS che è arrivato solo con un colpevole ritardo rispetto alle aspettative. Dunque il quotidiano scrive ritardi, sottovalutazioni, mancata assistenza, il problema del sale trappola A3, ANAS commissariata, inchiesta interna dopo il blocco di oltre dieci ore nella neve di centinaia di automobilisti. In prefettura alta tensione, balletto dei codici e scarica barile. Naturalmente ieri mattina è stata convocata con massima urgenza una riunione in prefettura dal prefetto di Cosenza Gianfranco Tomao. Noi però eravamo presenti in qualche modo a questo evento perché una delle nostre colleghe, Cristina Iannuzzi, era sulle strade per lavoro ed è rimasta bloccata all'interno di questo ingorgo. Ha raccolto per noi le testimonianze, anche gli sfoghi, di alcuni automobilisti e passeggeri che erano letteralmente soli in questo ingorgo di neve che si è liberato solo dopo tantissime ore. Ascoltiamole. C'ho il bambino che delle due che sono uscito dall'ospedale con un buco alla testa dovevo rientrare a vibbo, alla pediatra, ho chiamato polizia, carabinieri, pure il 117 e non mi hanno risposto nessuno, pure la finanza. Ho venito a guardare il bimbo che c'ha. Il bambino si è preso pure di panico, senza mangiare, dovevo andare in bagno. Ecco qua, ecco la Calabria. È una vergogna, io mi vergogno di essere italiana. Al nord queste cose secondo me non accadono. Lo sapevano loro che c'era l'erta maltempo, che aspettano di buttare lo sale? Eh? A chi? I 20 centimetri di neve, siamo bloccati mezza calabria, mezza calabria, vergognoso, vandaloso. No, dico, se per caso qualcuno si sente male, cosa accade? Muore. No, dove passa l'autombulanza e come si fa? Qua non risponde nessuno. Intrappolato qui da quattro ore, manco il terzo mondo. Dalla Liguria, dalla Spezia, Reggio Calabria, quattro ore che siamo fermi qua. E non c'è nessuno a levare una palata di neve, nessuno. Ha provato a chiamare l'ANAS? Noi abbiamo provato a chiamare tutti, ma non risponde nessuno. Non risponde nessuno. È una cosa vergognosa della Calabria, è una cosa vergognosa. La Calabria è al ventesimo posto in classifica e al ventesimo posto rimarrà per sempre, per tutta la vita. Cristina Iannuzzi per la CNews 24. E dunque tantissime polemiche in coda a questa emergenza scattata nel giro di pochissime ore, ma annunciata da diversi giorni anche dalla protezione civile all'ANAS. I testimoni di questo pomeriggio nella neve, i controlli, un cartello e un occhio alle ruote. Anche la Procura di Cosenza apre un'indagine e risarcimento per i disagi. Si fa strada l'ipotesi della class action. Naturalmente vedete al centro della pagina una foto, anche se le nostre immagini sono state molto più esaustive di quello che hanno vissuto gli automobilisti bloccati sulla A3, i soccorsi arrivati solo nella tarda serata di martedì. E poi un episodio di cronaca che arriva da Vibo Valencia, colpito dal congiunto di una persona uccisa nel 2004. Aggredito il testimone chiave con una testata, qualche minuto prima di testimoniare al processo, che lo vede parte offesa. Accaduto a Vibo a Pietro Lopregliato, personaggio chiave del procedimento contro il clan Bonavota di Santonofrio, aggressore identificato è il parente di una persona uccisa nel 2004. Poi il quotidiano ci riporta la curiosità, lo chef Antonino Canavacciuolo a Cosenza, cucine da incubo appunto sarà nella città Abruzia per alcune puntate. Andiamo avanti, si parla di sanità, il commento non ne capisco nulla, replica, vada a rileggersi i suoi compiti, ancora una botta e risposta, ancora protagonista scura, questa volta non con il governatore Oliverio, ma con i sindacati, i sindacati scuri, riesplode lo scontro. In una lettera il commissario contesta al direttore generale Fatarella la disponibilità a incontrarli. Riesplode lo scontro tra il commissario scuri e i sindacati, in una lettera contesta appunto a Fatarella la disponibilità di incontrarli e dichiara non capiscono nulla di sanità. E poi l'attacco vandaferro, un piano di rientro ingiusto, ancora quindi un attacco diretto per il commissario al piano di rientro del deficit sanitario massimo scura. Andiamo avanti, rivoluzione comune della legalità, l'articolo di Ernesto Magorno, segretario regionale del PD, preoccupa e non può non inquietare l'escalation criminale che negli ultimi tempi sta interessando la Calabria con continue minacce e intimidazioni verso le istituzioni. Poi all'interno l'approfondimento e invece il riferimento alla legge urbanistica che nei giorni scorsi ha scatenato una feroce polemica soprattutto da parte degli ordini professionali e degli architetti e degli ingegneri. La legge urbanistica è la Bibbia, una legge che coniuga semplificazione e sostenibilità messa in sicurezza e nuova qualità della vita, una legge di equità sociale in cui i principi fondanti sono la riduzione del consumo del suolo. Poi si legge all'interno l'approfondimento e si legge soprattutto perché questa legge non è piaciuta e continua a non piacere a chi si occupa ogni giorno di edilizia. Adesso prima di passare alla prima pagina del garantista vediamo insieme la rubrica che accade oggi. 21 gennaio 1998 inizia la visita di Giovanni Paolo II a Cuba. Il Papa così contraccambia la visita che Fidel Castro ha compiuto due anni prima durante l'incontro mondiale della FAO di Roma. Prima dell'arrivo del Papa a Cuba, Castro libera 106 detenuti di una lista di 260 consegnatagli dal cardinale segretario di Stato Vaticano Angelo Sodano. Fidel Castro riceve il Papa a Cuba con tutti gli onori e rinuncia per la prima volta a indossare la divisa militare per una più sobria giacca e cravatta. Dalla data della visita di Giovanni Paolo II a Cuba nell'isola si festeggiano sia il Natale che la Pasqua Cattolica. Passiamo quindi all'apertura delle cronache del garantista. Anche sul garantista troviamo al centro il blocco delle auto sulla neve. Le giustificazioni ANAS non bastano. A3 le voci del terrore. Le testimonianze mio figlio appena operato e con un buco in testa lo abbiamo visto anche nel nostro speciale curato da Cristina Iannuzzi abbiamo sentito la voce di questo padre che cercava disperatamente di tornare a Vivo Valencia per far vedere il bambino dalla pediatra senza riuscirci per circa 10 ore senza assistenza. Il bambino si è fatto prendere dal panico. L'indignazione questa è Calabria. Mi vergogno di essere italiano, al nord tutto ciò non sarebbe accaduto. Il mea culpa, Armani, il presidente dell'ANAS ammette è inammissibile commissario alla struttura d'emergenza calabrese. La politica interviene, il ministro del Rio vuole chiarimenti. Interrogazione del Movimento 5 Stelle, Oliverio, assurdo. L'opposizione, il governatore si vergogni. Il prefetto e la procura, autostrada non di nostra competenza ha aperto però un fascicolo d'inchiesta appunto dalla procura di Cosenza per cercare di risalire agli eventuali responsabili dell'emergenza. Ancora naturalmente non c'è nessun indagato. L'ironia è il paradosso, mentre a Camigliatello qualcuno dice che la neve non è sufficiente, il web si scatena con tweet e foto montade. L'ex eroina antimafia. Il cronico e il garantista ci riportano alla storia di Rosi Canale. Il PM chiede, sette anni, condannata Rosi Canale, dura requisitoria nel processo per la gestione dei fondi avuti da Enel Cuore. Secondo l'accusa sarebbero stati spesi per ragioni personali, ma la difesa non ci sta, non c'è alcuna prova. Si indicano prelievi che non esistono. La sentenza è attesa per venerdì. Il denaro destinato al progetto per la ludoteca del Movimento Donne di San Luca proveniente dall'Associazione Enel Cuore, lei lo spendeva per sé. La lei in questione Rosi Canale, ex presidente e fondatrice del Movimento Donne di San Luca. Poi una notizia che arriva da Roma, è una clochar che ha partorito appunto in piazza il padre e il papa le offre ospitalità e le offre una casa a distanza di ben 27 anni. Indagato faccia da mostro, si parla in Sicilia dell'omicidio Agostino e poi Petroli e Wall Street affondano la borsa di Milano. Nuova giornata di passione anche per Monte dei Paschi di Siena che chiude il rosso al 22%, sale anche lo spread. E poi in Borsopoli nessun rischio di inquinamento probatorio. La riflessione di Ilario Amendolia, l'Andrangheta si doti di un ufficio stampa. L'indomani della notizia relativa alle minacce dell'Andrangheta siamo stati gli unici ad avvertire che si faceva il gioco di chi vuole la Calabria ad una sola dimensione, cioè quella criminale. Vediamo anche qui nella fotonotizia le automobili imbottigliate sulla A3 avvolte dalla neve. Anche noi vittime dell'autostrada. I cari lettori, ieri non ci avete trovato in edicola ma solo nella versione online. Siamo state vittime della bufera di neve abbattutasi sulla A3 e della gestione disastrosa dell'emergenza dalla parte dell'ANAS. Se il nostro trasportatore è incappato nei blocchi autostradali non è riuscito ad aggiungere in tempo la tipografia, vanificando il lavoro. Ci scusiamo con voi per l'assenza senza preavviso. I dipendenti pubblici calabresi si ammalano meno degli altri, dunque un dato positivo. La CGA di Mestre rileva come nell'ultimo anno in regione si sia avuto il minore aumento di assenze. Poi si parla di amministrative. Ore calde in casa PD, incontri frenetici a Roma. Domani la direzione nazionale. Si attende anche la comunicazione della data dell'Election Day. Poi l'addio al regista, scola, maestro della commedia. Oggi i funerali. Abbiamo concluso con le prime pagine dei giornali. Adesso entriamo all'interno delle singole testate per cercare di capire come hanno approfondito le notizie. Partiamo da Repubblica, che approfondisce appunto il mercoledì nero delle borse. mercoledì da panico, borse KO Milano meno 4,8%. Monte dei Paschi di Siena crollo senza fine vertice a Palazzo Chigi. Cristin Lagarde, il Fondo Monetario Europeo. Ci sono più pericoli del previsto. Padoan e Visco a Darenzi. Tesoro, sistema solido. Nella foto vediamo appunto il punto, il focolaio da cui il contagio è partito, cioè la Cina che in questi mesi sta andando incontro ad una crisi senza precedenti. E crisi finanziaria, si chiede la Repubblica. No, l'economia reale non va così male. Il rischio è il contagio. Cinque economisti rispondono sui mercati e sull'Italia. Uno di questi è Michael Spence, che è stato premio Nobel per l'economia nel 2001, e che dichiara tanti gli errori, tassi troppo bassi e stime irrealistiche sul pianeta Cina. E poi Kenneth Rogoff, che insegna ad Harvard, ed è stato capo economista del Fondo Monetario Europeo, che dichiara non è collasso. Europa e Stati Uniti stanno risalendo e l'Italia cresce. Dunque, dati e opinioni contrastanti su quella che potrebbe essere la premessa di una nuova crisi, circostanza che nessuno auspica, che si verifichi. Vediamo invece l'opinione dell'ex presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, sul greggio pesa un'iperspeculazione. Ci siamo rimangiati i guadagni del 2015. Ancora il banchiere Jacob Frankel, che è il direttore di JP Morgan Chase, è stato governatore anche della Banca d'Israele. Mercati sconnessi dalla realtà, la crescita c'è e aumenta il lavoro. E poi Domenico Siniscalco, ex ministro dell'economia, ora è alla Morgan Stanley, il quadro pericoloso. Per noi c'è anche il caso sofferenze scoperto in ritardo. E vediamo come si è poi palesato questo momento di crisi delle banche che si è riverberato dall'estremo oriente fino a tutte le borse europee. Qui vediamo i dati delle borse. Milano ha fatto peggio di tutti con il meno 4,83%. Roma e Londra il meno 3,46%. Francoforte 2,82%. A soffrire di più anche la borsa di Parigi con meno 3,45%. Tokyo meno 3,71%. New York Dow Jones meno 1,54%. L'indice Nasdaq si è fermato a 1,12%. E dunque questa è la situazione che preoccupa maggiormente. Si cerca di capire quali saranno le conseguenze. Ce lo spiega all'interno della Repubblica Tesoro e BCE in campo per lo scudo anticrisi. Bad bank in due tempi e subito le aggregazioni. Questa potrebbe essere una delle soluzioni per cercare di mettere a riparo il credito italiano. E poi un focus sul Monte dei Paschi di Siena. Clienti in uscita da Siena ma la cassa tiene. A parlare è Fabrizio Viola, amministratore delegato del Monte dei Paschi, che ha creato una task force interna per gestire l'emergenza. Il fortino senese per ora tiene, anche se da tre giorni alcuni clienti del Monte dei Paschi stanno ritirando fondi dalla banca. Si dice che la cassa in tesoreria superi le quantità operative nell'Europa dei tassi zero. La liquidità è tra gli ultimi problemi degli istituti, che pure ne hanno bisogno come l'ossigeno. E andiamo avanti. Si parla di Europa. Nei giorni scorsi c'era stata un botta e risposta con toni anche molto accesi tra il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e il presidente del Consiglio Matteo Renzi. Adesso, vista anche la situazione delle borse, si cerca un punto di contatto per ricucire questo strappo e per cercare di affrontare insieme quella che potrebbe essere una crisi che riguarderebbe comunque l'intera Europa e non i singoli paesi. L'Unione europea cerca la tegua con l'Italia, i rapporti ok, ma riduca il debito. Juncker, normale scambio di parole maschie, il PD però attacca il suo capo di gabinetto. Dopo settimane di tempesta tra Roma e Bruxelles, arriva il giorno della distensione sul versante europeo. I protagonisti delle polemiche, innescate dagli attacchi di Matteo Renzi, stemperano i toni sotto traccia, proseguono i negoziati tecnici, favoriti da un clima politico più sereno sui diversi dossier chiave per l'Italia. Dalla flessibilità alle bedbank. E il caso Boschi difende la nomina di Carrai. Si parla naturalmente del ministro Boschi. La ministra, nessuna interferenza sui servizi, le opposizioni insorgono, deve intervenire Mattarella. Il caso al Copasir, il Movimento 5 Stelle, vicenda opaca, il Premier faccia chiarezza, i dubbi degli esperti informatici. Fa discutere dunque la nomina del fedelissimo di Renzi, Marco Carrai, presidente dell'aeroporto di Firenze, amico personale di Matteo Renzi da molti anni, che ha partecipazioni in molte aziende. Fa discutere quindi la decisione del governo. Non piace nemmeno ai servizi segreti, quindi nemmeno all'intelligence del Copasir, che ha chiesto chiarimenti. Adesso, prima di proseguire con l'approfondimento delle altre notizie, di andare e di concentrarci sulla cronaca e su quello che riportano i giornali regionali, ci fermiamo per qualche minuto, ci colleghiamo con l'ingegner Ugo Notaro, che ci spiega quali saranno gli sviluppi meteorologici per i prossimi giorni. Amici della C, una giornata di giovedì, che è ancora di sabore invernale per quanto riguarda la nostra penisola, in particolare al centro-sud d'Italia avremo ancora dei fenomeni, che sono di tipo nevoso, all'altezza prossima ai 1000 metri, che sono alimentate proprio da questa discesa di aria artica, proveniente proprio dal circolo polare e diretta attraverso i Balcani, in corrispondenza del meridione d'Italia. Tutto ciò è ben evidenziato anche nell'analisi a 1500 metri di altezza e vediamo la Calabria, il centro in basso dello schermo, colorata di verde. Verde sono le temperature più basse e questa situazione è destinata ad avere pochi cambiamenti da qui fino al fine settimana. Nel corso della prossima settimana potremmo assistere a qualche cambiamento, però rimanendo sempre in termini di situazione di stampo invernale. D'altro canto il mese di gennaio è il mese notoriamente più freddo per il meridione d'Italia. Passando a uno sguardo d'insieme sulla nostra penisola, possiamo dire che non sono previsti fenomeni sul sedentrino d'Italia, e sono ancora previste instabilità sulla fascia tirrenica, con precipitazioni sul centro Italia e sul basso versante tirrenico, sul settore siciliano e sulla Calabria meridionale, con nevicate ancora possibili a quote prossime ai 1000 metri. Sul settentrino d'Italia una giornata dal sapore invernale per quanto riguarda i valori termici, in assenza di fenomeni significativi farà comunque molto freddo, con temperature, con le massime prossime ai 5-6 gradi e le minime abbondantemente sotto lo zero. Ancora instabilità sulla fascia tirrenica, nevicate sulla catena perinica centrale ad altezze prossime ai 700-800 metri. La giornata di giovedì vedrà sul meridione d'Italia ancora instabilità sulla fascia tirrenica, fino alla Sicilia, con dei brevi fenomeni e più probabilmente anche sul Calabria meridionale e sul settore orientale della stessa Sicilia. Sarà una giornata ancora fredda, con valori termici con le massime sotto i 10 gradi e le minime abbondantemente sotto lo zero a quote collinari, con nuove nevicate possibili sui rievi della Sila e del Pollino ad altezze prossime ai 1000 metri. saranno le ultime, se probabilmente, di questa fase invernale, stante che il fine settimana si prevede abbastanza rigido dal punto di vista termico, ma con fenomeni ormai in fase di progressivo esaurimento. La grafica che vediamo è relativa alla giornata di venerdì, non sono da segnalare per la giornata di venerdì fenomeni significativi, aperture sul settore costiero di Renica a partire da Ovest, in estensione nel corso della giornata stessa di venerdì e poi ancora nel corso del fine settimana, sul resto della nostra regione. Poche le variazioni anche con l'inizio della prossima settimana. Direi che per oggi è tutto, un saluto con Notaro per gli amici di La C. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia.